Ben ritrovati a tutti i militanti, i sostenitori e agli elettori della Lega. Siamo in testa, eravamo indietro, siamo finalmente in testa, però servite voi. Mancano ormai pochi giorni, solo due settimane al voto, serve la vostra partecipazione, non ci basta il vostro voto. Quindi riempiamo la Lombardia di Gazebo sabato 16 e domenica 17 febbraio. Facciamoci vedere sorridenti, orgogliosi, propositivi in tutte le piazze della Lombardia. Io ci sarò, vi aspetto con altre migliaia di volontari. Per informazioni chiamate pure questo numero 02 66 21 11. Gli altri insultano, noi proponiamo e lavoriamo. Chiamate per partecipare, 02 66 21 11, dai che ce la facciamo.